La morte di Morosini del Livorno ha bloccato tutti i campionati e ovviamente anche quelli relativi al calcio minore. Che cosa succede adesso? Lo chiedo a Maurizio che cura per noi questa rubrica. Succede che la giornata che si va a disputare domenica viene chiaramente slittata quindi non succede quello che è successo nei campi di Serie A ma chiaramente come se fosse una giornata in più di femma del campionato. Quindi tutto si sposta alla volta dopo. Ho ottenuto le eccellenze, sono tre giornate che non gioca. Certo questo fatto di Morosini porta alla luce il problema veramente non tanto di quello che è successo a lui personalmente perché effetti non si sa ancora con precisione ma porta anche alla luce il problema dei soccorsi e soprattutto negli impianti dilettantistici perché un'ambulanza non c'è anche se poi l'ho visto a Pescara purtroppo c'era l'ambulanza ma qualcuno aveva pensato bene di bloccarla. E quindi non ci sono neanche i defibrillatori è stato il problema quindi anch'io faccio l'appello che hanno fatto questi giorni nei giornali di dire che tutte le società sportive devono munirsi di un defibrillatore soprattutto anche di una persona che lo sape usare perché questo è il problema maggiore. Ma io mi sono informato, dice che non è difficile perché addirittura c'è una guida parlata dentro il defibrillatore. Comunque. In ogni caso dovrebbe essere obbligatorio. Io vedo che in tutte le scuole lo mettono. Adesso nelle scuole mettono i defibrillatori. E' successo purtroppo questo problema se ti ricordi bene anche pochi giorni fa purtroppo ai campi di Ciccio Graziani dove un ragazzo di 44 anni è deceduto e anche lì purtroppo defibrillatore non c'era. Quindi anche questi centri sportivi dove chiaramente tutte le sere vanno a giocare tantissimi ragazzi dilettanti ma anche amatori, soprattutto gli amatori, devono fornirsi obbligatoriamente di questo defibrillatore. E poi la prevenzione con visite serie perché le visite si fanno in mille modi ma visite serie che certificano l'idoneità di quel soggetto per certi sforzi. Hai detto bene. Visite serie perché sono obbligatorie soprattutto del calcio amatoriale anche Asci, Wisp e Opel sono oltre 40 anni e devono essere fatte annualmente. Devo dire che anch'io che ho giocato tanti anni, che le facevo sempre, ora le faccio però anch'io ho un po' di ritrosia perché non abbiamo tempo, perché tanto abbiamo giocato 30 anni avremo il fisico per giocare fino a 50 anni. Invece queste visite vanno fatte perché vengono fatte sotto sforzo, però sotto sforzo si può vedere se c'è qualche problema. E poi se deve succedere è chiaro che succede di tutto, però di contro per esempio ho sentito dire, non so se mi confermi questa notizia, che in Inghilterra per praticare il calcio non serve alcun certificato medico. È vero, è così, però non è che sia un esempio da seguire secondo me, perché il calcio soprattutto a livelli anche direttantistici in questo momento prevede anche dei sforzi fisici molto grossi, molto faticosi, quindi è giusto e necessario che tutti i giocatori siano nelle perfette condizioni fisiche per poter giocare al calcio. Il famoso certificato di sana e robusta costituzione va fatto seriamente. Sì, oltre che quello chiaramente va fatta anche la prova sotto sforzo e va fatta una prova sotto sforzo seria, come hai detto te, non tanto per far passare l'abitabilità del certificato, della visa, ma proprio per verificare se ci sono delle anomalie o meno. Allora, veniamo ad Arezzo, alla nostra città, che dovrebbe, si parla sempre al condizionale, perché Arezzo tutto è possibile, dai Guelfi e Ghibellini in poi, tutto è possibile, no? Far nascere questo progetto. Sì, ieri c'è stata la sigla dell'accordo fra Arezzo e Giorgio Camp e questa previsione di Cittadella Maranto. Io attendiamo i sviluppi, li attendiamo anche con molta simpatia e speranza, perché forse è giunto veramente il momento di poter fare qualcosa di razionale, di programmatico ad Arezzo. E questo accordo è stato siglato proprio 19 anni dopo il famoso fallimento, cancellazione del 1993 e quindi potrebbe essere anche di buon aspicio. Speriamo che le due date coincidano una nella morte e una nella rinascita. Ringrazio l'Avvocato Maurizio Polverini che si prende cura di questa rubrica e che ovviamente starà con noi fino alla fine del campionato. Poi assieme a Stefano Brandini, quindi in tre cominceremo a parlare con una rubrica relativa agli europei. Va bene, ti volevo solo dire se mi permetti di fare una scena alla promozione, perché c'è stata un settimana passata due recuperi. Non so se sono autorizzato. La Rondinella ha battuto l'Arno e la Terina per 1-0 e il Bibiana ha battuto il Sandonnino. Con questa vittoria la Rondinella si è riportata, ecco erano recuperi importanti, perché la Rondinella si è riportata in testa la classifica con un punto di vantaggio sulla Castiglione e due sulla Bucinese, e due sul Porta Romana. Mentre il Bibiana con questa vittoria è sempre l'ultimo in classifica, ma ha quattro punti dalle penultime, quindi ancora ha una speranza per poter rientrare almeno nei play-out. Quindi speriamo che una Rondinella in questo caso faccia primavera, perché il clima mi sembra ancora abbastanza invernale. E a Castiglione non lo sperano, perché chiaramente pensano loro di vincere il campionato. Buona giornata.